Questa sera, 27 ottobre, alle 21.25, va in onda su Canale 5 la sesta e ultima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi. Scopriremo quindi chi è che ha rapito la figlia di Emma. E come detto nel video precedente, dietro a tutto c'è suo fratello Roberto. La serie tv ha superato i 3 milioni di telespettatori e quindi ha avuto molto successo. Per questo ci si chiede se Mediaset abbia intenzione di rinnovare una seconda stagione. Anna Valle, alcuni giorni fa, ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano in cui chiarisce questo punto. Per il momento non è prevista purtroppo una seconda stagione. Anna Valle ancora non ha ricevuto notizie di ciò. Non esclude che però, in futuro, Mediaset, vedendo il successo riscosso da questa prima stagione, possa decidere diversamente. Dopotutto, perché non rinnovare una fiction che ha avuto così tanto successo? Tuttavia, la Valle ha detto che presso la rivedremo in onda su un Rai 1, in quanto sta partecipando a un nuovo progetto. Interpreterà Lea, un'infermiera che lavora in un ospedale pediatrico. Riguardo a Giuseppe Zeno, il protagonista maschile di Luce dei tuoi occhi, già a partire da mercoledì prossimo, lo rivedremo nuovamente su Canale 5. Il nuovo progetto della Rete del Biscione si intitola Storia di una famiglia per bene ed è tratto da un romanzo di Rosa Ventrella. Accanto a Zeno ci sarà Simona Cavallari, i due avevano già recitato insieme in squadra Antimafia 3. Per quanto riguarda la trama, ci ritroviamo a Bari tra il 1985 e il 1992. Ci sono due giovani che si amano molto, ma il loro amore, così come Romeo e Giulietta, è ostacolato dalle rispettive famiglie. I due attori interpretano marito e moglie. Lui è un pescatore, lei invece è una casalinga e sono entrambi i genitori di Maria, la protagonista di questa storia d'amore ostacolata.